I telepaci che ci hanno fornito le immagini e le interviste realizzate dalla collega Marina Zerman. Proseguiamo ora con il telegiornale. Mercoledì 27 luglio nella loggia di Fra Giocondo in Piazza dei Signori si celebra il lancio del primo segnale wireless della storia dalla nave Elettra. Un omaggio a Guglielmo Marconi che vedrà alle 12 la visita guidata alla mostra organizzata per l'occasione. E' una dimostrazione del lancio del primo segnale wireless. Seguiranno altre dimostrazioni e una serie di incontri, tra questi la politica della regione sulla comunicazione digitale, opportunità per il cittadino. L'iniziativa è stata presentata stamane al Museo della Radio.